Una super sportiva di classe, nuova Maserati GT. È l'ennesimo miracolo targato Pininfarina, la nuova Maserati Gran Turismo è un'auto imponente, raffinata, unica. È una sportiva elegante con una sospensione regolabile e una grande prontezza di frenata, aiutata da sistemi di sicurezza di alta tecnologia. Personalità marcata, cura del dettaglio, linee armoniose, mozzafiato. Pur essendo una coupé sportiva, i due posti posteriori sono comodissimi e in generale l'abitabilità e il comfort sono di alto livello. Il brand Maserati trionfa con la nuova Gran Turismo. Ha un motore V8 di 4200 di cilindrata che sviluppa 400 cavalli. È aiutata da un cambio automatico a 6 marce che ne determina una potente accelerazione.